Chiusa il traffico per lavori di rifacimento del manto stradale, via Nicola Fabrizia Pescara dall'8 al 16 maggio, restano aperte invece le strade perpendicolari e saranno approntati percorsi alternativi per gli automobilisti. Si tratta di qualche giorno, tempo permettendo, spiegano dal Comune, per i lavori di rifacimento dell'asfalto della centralissima via Nicola Fabrizia da piazza Salotto fino a via Gobetti. Lavori che si affiancano a quelli già in corso o che dovranno partire in altre zone della città. Siamo con l'architetto Pier Giorgio Pardi per parlare di questi lavori che riguarderanno via Nicola Fabrizia Pescara. Si tratta del rifacimento dell'asfalto dell'intero tratto viario di via Nicola Fabrizia che va da piazza della rinascita, quindi da piazza Salotto fino a via Gobetti, quindi all'intersezione con via Venezia. I lavori interesseranno la scarifica di tutto il manto stradale e il rifacimento dell'asfalto in un periodo che andrà dall'8 al 16 di maggio, su un intervento molto importante che da circa 15 anni non veniva operato su questo tratto viario, cercando di arriccare meno problemi alla cittadinanza, alla viabilità e tutta l'organizzazione del traffico, in quanto cercheremo di organizzare tutta la fase dei lavori per tratti, essenzialmente in due tratti, e lasciando aperte le arterie perpendicolari per permettere un deflusso della viabilità verso il mare e verso l'interno, quindi sul corso Vittorio Emanuele, cercando poi di operare sulle intersezioni nei momenti in cui si rende necessario e cercando di deviare di dove è possibile il traffico sulle vie secondarie. Ci saranno delle restrizioni per quanto riguarda la sosta e la mobilità? Certamente, verrà interdetto il traffico su tutto il tratto viario, quindi dall'intersezione da Piazza della Rinascita fino a via Venezia, per capirci, con divieto di sosta e di fermata e divieto di transito su un'intera strada. Da quando a quando? Dall'8 al 16 inizieranno i lavori, ci sarà la prima fase che è quella poi di scarifica dell'asfalto e poi successivamente sarà rifatto il tappetino d'usura e tutta la parte che riguarda l'asfalto della strada.